Ciao, sono Carla Zanni, amministratore delegato del Gruppo Remark. Il Gruppo Remark è un insieme di aziende specializzate nella consulenza in ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. Siamo la prima società di consulenza in Italia ad avere una distribuzione capillare sul territorio emiliano, Veneto e Lombardo, in grado così di offrire un servizio di pronto intervento in caso di infortunio grave o gravissimo, ma anche in caso di visita ispettiva. In questo video voglio citarti alcune parole. Futuro, serenità, benessere psicofisico, salute, cura personale, vecchiaia serena. Cosa lega tutte queste parole? Potrà sembrarti anomalo, ma la risposta è medicina del lavoro. Ed è proprio questa certezza che mi ha motivata a scrivere il mio libro, Nel Cuore delle Aziende, che oggi vi voglio presentare. Questa bellissima disciplina, ahimè poco conosciuta, poiché sempre considerata come obbligo di legge, è invece una grandissima opportunità che il decreto legislativo ci offre. C'è un mondo da scoprire dietro a ciò che abbiamo erroneamente sempre ritenuto un dovere. Un mondo di valori, di attenzioni e cura verso se stessi e verso il prossimo. Ed io, con il mio libro, voglio aiutarti a scoprirlo. Quindi, imprenditore, mi rivolgo a te, principalmente a te, perché sei tu, ahimè, che dovrai subirne i costi. Sei tu la persona individuata come responsabile di un benessere futuro dei tuoi dipendenti. Ma saranno tue anche e soprattutto le gratificazioni ed i grandissimi vantaggi che da essa potrai trarne, economici e di qualità lavorativa. Serenità, benessere e fiducia faranno parte del tuo quotidiano, oltre a crearti un ambiente sano ed armonioso. Scopri con me tutti i segreti di questo mondo leggendo il mio libro, nel cuore delle aziende. Puoi acquistarlo anche su Amazon, oppure puoi richiederlo direttamente a me mandando una mail a carla.zanni chiocciola grupporemark.it. Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato sull'uscita del nostro ultimo video.